Oggi parliamo di parabole. La parabola del buon samaritano, riassunto. Un uomo scendeva da Gerusalemme per andare non si sa bene dove. A piedi. Dopo 50 chilometri all'altezza di Gerico era stanco. Decise di fare autostop. Sembrava una buona idea. Non fu una buona idea. Un gruppo di brutti ceffi in groppa delle moto rumorose come delle vecchie capasacchi smarmittate si fermarono e lo caricarono di mazzate. Dopo averlo derubato anche delle mutande lo abbandonarono mezzo morto sul ciglio della strada. Per caso un sacerdote a bordo di una Giulietta rossa sulla quale c'era seduta una Giulietta bionda scendeva per quella stessa strada e quando vide il moribondo ebbe un mezzo conato di vomito e diede gas. Considerando che i cattolici non esistevano ancora era per i sacerdoti una pessima pubblicità. Dopo poco passò un ebreo assai devoto, uno che trascorreva metà della sua giornata in sinagoga. Era a bordo di una Toyota ibrida che fa molto figo e non inquina l'ambiente perché lui alle piante vuole bene ma quando vide il poveraccio scamazzato a terra e dolorante ebbe un conato di vomito intero per essere migliore del sacerdote della religione che ancora non esisteva ma che già gli stava sulle palle e passò oltre senza sgasare perché lui era comunque un ambientalista e alle piante vuole bene. Dopo poco a bordo di una vecchia Fiat Ritmo appena strappata allo sfascio a carrozze passava uno che a Gerico tutti chiamavano lo zingaro. Puzzava come una discarica di monnezza a Napoli a Ferragusto. Raccolse il poveraccio, lo portò nella sua baracca fatta di Eternit e gli diede da mangiare del prosciutto appena rubato alla Cov di Gerico. Poi lo curò con delle medicine trafugate nottetempo alla farmacia comunale, sempre di Gerico, morale. Il più delle volte è meglio finire tra le braccia di un buon ladrone che di un paio di uomini intalare, anche a Gerico.